Musica Presi i killer del boss marino, il capoclan degli scissionisti fu assassinato sul lungomare di Terracina nell'estate di 5 anni fa. 4 arresti. A sparare fu un 22enne del posto. Migrante ferito non ha reagito. Sparatoria nel centro migranti di Cricignano. Secondo i testimoni amici del 19enne del Gambia, colpito al volto, non è stata legittima difesa. A Salerno funerali solenni per le 26 donne morte sulla nave. Si attende il presidente Mattarella. Rapinarono poliziotto sgominata la banda. Da lungomare violento, svolta stamane nelle indagini della questura di Napoli, che ha arrestato gli autori della brutale aggressione. La gente, insieme alla moglie, fu pestato e derubato dell'orologio dopo una lite per la viabilità. Emergenza a scuola e 5 plessi per un liceo. Nuovo vertice in prefettura d'Avellino per trovare una soluzione per il Mancini sotto sequestro. L'ipotesi è quella di dividere i 1.200 alunni in 5 istituti della città. Boom dei musei, 5 milioni di visitatori. A due anni dalla nomina dei direttori dei musei indipendenti, numeri da record per la campagna. Giulierini del Man, questo è solo l'inizio. Confindustria Benevento, gli esempi di successo. Per la settimana della cultura d'impresa di Confindustria, Musei Impresa ha promosso a Benevento un convegno per far luce sulle imprese storiche. Esempi di successo al centro di una ricerca dell'Università del Sannio. Buonasera dal nostro TG in apertura c'è la cronaca. Dopo 5 anni la polizia ha arrestato i responsabili dell'omicidio di Gaetano Marino, boss degli scissionisti avvenuto sul lungomare di Terracina. Quattro le persone arrestate a sparare tra la gente fu un 22enne del posto. Vediamo. Gaetano Marino, uno dei boss degli scissionisti di Camorra, fu ucciso da quattro sicari mentre passeggiava sul lungomare di Terracina. L'omicidio avvenne il 23 agosto del 2012 davanti allo stabilimento Balneare Sirenella di Viale Circe, intorno alle 17. Il boss, detto Moncherino per la mancanza di un arto, fu trovato a terra ucciso da 11 colpi di pistola. Gaetano era il fratello di Gennaro, conosciuto nell'ambiente come Michi, in carcere al 41 bis per associazione di stampo mafioso e omicidio. Dopo quattro anni gli investigatori della polizia hanno arrestato i quattro presunti sicari dell'omicidio. Si tratta di Arcangelo Abbinante, 27 anni, all'epoca 22enne e considerato l'esecutore materiale. Giuseppe Montanera, 41, Carmine Rovai, 50 e Salvatore Ciotola, 55 anni. Quest'ultimi due fornirono l'appoggio logistico al killer. Il clan dei Marino fu coinvolto in uno scontro all'interno degli scissionisti di Secondigliano per la gestione della piazza di spaccio delle case celesti di Scampia, aria sotto il controllo proprio di Gaetano Marino. Quando fu ucciso il boss era in vacanza con la famiglia a Terracina, i sicari lo chiamarono al telefono mentre lui era in spiaggia. Lui salì e uscì dallo stabilimento. Appena fuori dalla sirenella fu ucciso con 11 colpi di pistola. Gli assassini fuggirono a porto di una Fiat Punto Grigia. Sul posto intervennero gli agenti della polizia di Terracina. Per cinque anni gli esecutori dell'omicidio sono rimasti ignoti. L'omicidio Marino rimbalzò alle cronache nazionali anche perché Roberto Saviano nel febbraio del 2012 scatenò la polemica perché Marino partecipò come ospite in una trasmissione RAI. Oggi, grazie alle indagini e collaboratori di giustizia, i quattro sono stati assicurati alla giustizia. Sparatoria nel centro immigrati di Gricignano. Secondo i testimoni amici del 19enne del Gambia colpito al volto non è stata legittima difesa. Stamane la conferenza stampa davanti al Cardarelli dove l'immigrato è ancora ricoverato in gravi condizioni. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. Mentre Alagi Bob, 19 anni, immigrato dal Gambia, combatte tra la vita e la morte nel letto dell'ospedale Cardarelli con un proiettile in bocca in attesa di un intervento maxillo-facciale, i suoi amici, i suoi avvocati e gli attivisti dell'ex OPG Sopazzo di Napoli si sono dati appuntamento davanti all'ospedale per raccontare un'altra versione dei fatti. La sera della sparatoria nel centro migranti Lavela di Gricignano d'Aversa, secondo i testimoni, Alagi Bob non aveva dato fuoco alla sua stanza. I ragazzi vivevano in bagni, parliamo di stanze ricavate dentro un bagno dove vivevano tre persone, due persone. Il ragazzo che adesso sta lottando contro la vita e la morte viveva dentro un bagno. Il gestore ha fatto vivere questo ragazzo dentro un bagno. Questo ragazzo non ha mai avuto assistenza medica né assistenza legale. Quando ha cercato di chiedere aiuto agli operatori, gli operatori gli hanno detto tu devi fare il rimpatrio. Intanto l'imprenditore Carmine Della Gatta, che venerdì sera ha sparato, è in carcere. Fin dal primo momento Della Gatta ha dichiarato di aver agito per difendersi. Per il suo legale Giovanni Cantelli, la scelta di passare dai domiciliari alla cella è una decisione mediatica. Bob è stato aggredito, ma come sono stati aggrediti tanti altri, fisicamente e moralmente. Parliamo di ragazzi che vengono da situazioni di grande disagio, non solo fisico, ma anche e soprattutto sentimentale e morale, che non hanno trovato neanche una mediazione di linguistica. Venerdì prossimo i ragazzi dell'ex OPG, insieme alla comunità gambiese, prenderanno parte alla marcia degli esclusi in programma a Napoli. Il corteo sfilerà per le strade della città e, come fanno sapere, prenderanno parte anche gli studenti, i precari e i disoccupati. Non solo il ministro Minniti, ai funerali delle 26 donne migranti in programma questo fine settimana a Salerno, potrebbe presenziare anche il capo dello Stato. Sabato mattina, infatti, Mattarella sarà all'Annunziatella di Napoli e prima potrebbe essere presente alle seque al cimitero cittadino. Giovanni Battista Lanzilli. Al momento si resta nel campo delle ipotesi, in attesa di una conferma ufficiale che si pensava dovesse arrivare già ieri e che invece ancora non c'è. Manca ancora la data dei funerali delle 26 giovani donne migranti morte durante la traversata dall'Africa verso l'Italia e sbarcate cadavere domenica scorsa al porto di Salerno. Questa mattina si è tenuta una riunione operativa in prefettura per organizzare la cerimonia che, come ha sottolineato il sindaco Enzo Napoli, sarà sobria ma solenne. Il ritardo nell'annunciare la data dell'esegue lascia immaginare che ai funerali potrebbero essere presenti alte cariche istituzionali. Se il ministro dell'Interno, Marco Minniti, sembra praticamente certo, in giornata si sono diffusi altri rumors che vorrebbero presente nel cimitero di Salerno anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Non solo una suggestione ma anche un ragionamento logico. Il presidente della Repubblica sabato mattina è atteso infatti a Napoli in occasione della cerimonia del 230esimo anniversario della fondazione dell'Annunziadella ed è possibile che prima possa presenziare ai funerali delle migranti. Segnale tangibile degli onori che l'Italia vuole tributare alle vittime dell'ennesima tragedia del mare. Rapina violenta sul lungomare presi gli otto autori del pestaggio a un poliziotto libero dal servizio. Anche sua moglie venne picchiata davanti ai figli. Oggi gli arresti. Vediamo il servizio. Preso il branco delle rapine violente nelle notti di Napoli. Otto gli arresti tra misure cautelari in carcere e domiciliari. Dei brutali banditi che lo scorso giugno pestarono a sangue un poliziotto libero dal servizio e anche sua moglie davanti ai loro figli nel traffico del lungomare. Nel branco c'è anche Monica Amato, la figlia di Rosaria Pagano, una delle donne boss degli scissionisti di Scampia. Spietati e coesi in sella gli scooter si muovevano in base ad un preciso modus operandi. Sceglievano la zona della Movida per aggredire e rapinare senza pietà. Gli otto sono stati individuati dalle forze dell'ordine grazie alle testimonianze rese e alle immagini della videosorveglianza che li hanno inchiodati alle loro responsabilità. L'agente era a bordo della sua auto con la sua famiglia quando si accorse di essere seguito da quegli otto in sella a dei motorini. Uno degli scooter si piazzò di traverso sulla carreggiata per bloccare la vettura. Un altro componente del branco aprì la portiera minacciando e picchiando il poliziotto che si era regolarmente qualificato. Anche sua moglie, che tentò disperatamente di sottrarlo a quella furia, venne colpita da alcuni degli aggressori a colpi di casco protettivo. I banditi si scagliarono contro quell'autovettura senza tener conto che all'interno c'erano due bambini terrorizzati. Ancora disagio a Napoli. Legati al maltempo è bastata una affolata di vento per far cadere la rete di protezione posta davanti all'istituto Ugo Foscolo in piazza del Gesù. Sono caduti anche dei calcinacci, fortunatamente senza colpire nessun passante. Allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'aria dopo aver spicconato. La zona è stata interdetta anche grazie all'arrivo della polizia locale sul posto. La rete di protezione venne installata lo scorso anno, sempre dopo il crollo di alcuni calcinacci, dall'edificio dell'istituto scolastico. Paolo Siani in Parlamento col PD. Stavolta sì, potrei farlo, ma non andrò a Roma a non far nulla. Il fratello del giornalista ucciso dalla camorra chiamato da Renzi a candidarsi alle prossime politiche esce allo scoperto. Intanto a Napoli slitta la proclamazione del voto di domenica. A distanza di un anno da quella Cina del 17 gennaio, quando dopo la disfatta referendaria e le dimissioni Renzi decise di venire a Scampia, Paolo Siani ammette di prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di una candidatura con il PD. Dopo che il leader ha comunicato in direzione nazionale la volontà di chiedere a Siani di correre con idem alle prossime politiche, il medico napoletano, fratello di Giancarlo Siani, giornalista del mattino ucciso dalla camorra, non ha ancora sciolto del tutto la riserva. Ma la condizione per il suo impegno è chiarissima. Non andrò a Roma a non far nulla, dice il pediatra, che ha una lunga storia di impegno civile con la fondazione Polis per i familiari delle vittime innocenti di camorra e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. La prima a congratularsi per la scelta di Renzi è la deputata PD Valeria Valente che scrive, bene puntare su Siani, il tema della povertà educativa è cruciale per Napoli. Infanzia, educazione, lotta all'inquinamento, sostegno alle famiglie, sono questi i punti cardine intorno ai quali potrebbe ruotare la sua candidatura al Parlamento. Ma il resto un indipendente, sottolinea il medico anticamorra, non sarò mai un politico. Ed è proprio questo che, diciamo, lo piace di più a Renzi, il volto pulito che mette tutti d'accordo, le straneità alle correnti di partito, un tocca sana per un PD napoletano tormentato da guerre interne. Un PD che domenica è andato al voto per eleggere il segretario e a distanza di due giorni i plichi restano ancora sigillati in via Toledo. Da Roma era arrivato lo stop il giorno prima, Martina aveva spostato tutto al 19, poi però il responsabile organizzazione del PD, Andrea Rossi, aveva confermato il 12 e così non tutti hanno potuto votare. L'ipotesi è di rinviare tutto a domenica prossima per consentire ai 17 circoli rimasti chiusi di votare regolarmente. Andiamo ad Avellino, il liceo Mancini diviso su cinque plessi e questa la soluzione prospettata dalla provincia e che domani dovrebbe avere l'ufficialità. Ma le mamme non ci stanno, ci ridiano il Mancini di via Scandone. Abbiamo notiziato il prefetto sulla soluzione cui stiamo lavorando. Tutto qui. Taglianetto, gamba corta, dopo la riunione in prefettura per un exit strategy all'emergenza Mancini, incontro cui ha partecipato anche il sindaco Foti che da qui a breve potrebbe trovarsi nelle stesse condizioni se la procura deciderà di chiudere anche la Solimena. Entro domani avremo la soluzione, assicura il numero uno di Palazzo Caracciolo. Stiamo lavorando su cinque plessi, via Zigarelli, la stessa Solimena, Dorso, Rossidori e Virgilio Marone per spalmare i ragazzi sui doppi turni. Io spero intanto di trovare aule a sufficienza per garantire a tutte e 58 le classi del Mancini di trovare una collocazione. 21 sono già nella disponibilità del liceo Mancini. Dobbiamo trovare le altre 37 e stiamo lavorando per questo. Gamba corta si è intrattenuto poi con una delegazione di mamme del Mancini molto arrabbiate che in vano hanno atteso di essere ricevute dal prefetto e che spingono per un'altra soluzione ritornare tutti al Mancini di via Scandone che attualmente ospita i quasi 800 alunni del De Luca. Sistemarne 800, dicono, è più facile che 1200. L'anno scorso c'è stata un'altra scuola che ha avuto questo problema, una scuola superiore con un numero di alunni inferiore al nostro. Come mai non si è adottato il doppio turno? Probabilmente c'è qualcuno che non vuole che venga toccato questo edificio, non riesca a capire perché. Io vorrei vedere se lei è a casa sua, se è in una casa sistemata antisismica, vengono, la buttano fuori, si mettono altre persone in casa sua e poi dopo, l'anno successivo, lei si ritrova in una baracca a dover uscire. Che cosa penserebbe? 5 milioni di visitatori e 36 milioni di euro di incasso sono i numeri dei musei della Campania a due anni dalla nomina dei nuovi direttori. La Campania con i numeri, esperienze e progetti segna una ripresa di attenzione verso il patrimonio culturale. Il 2016 è stato un vero e proprio boom per 5 musei autonomi, 5 milioni di visitatori e 36 i milioni di euro di incasso. La Campania dei musei viaggia con un trend di crescita nel 2017 del più 10,8%, oltre 8 milioni di visitatori, seconda regione d'Italia dopo il Lazio. Tutti i direttori intervenuti ripetono che non solo solo i numeri e la chiave per leggere la svolta, ma anche quanto si sta facendo in scavi, ricerche, mostre. Guida Pompei, che ha sperimentato prima l'autonomia, spiega Massimo Zanna, ed è stata sempre un prototipo. La più grande soddisfazione è il ruolo internazionale del MAN, ha detto Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli. Le condizioni sono estremamente positive, lo scenario è appetibile. Questo però non deve portarci in qualche modo ad adagiarsi sugli allori, ma dobbiamo intavolare sempre nuove strategie per portare nuovi tipi di pubblico, perché la soglia del milione di visitatori per il MAN è una soglia assolutamente alla portata alla fine del mandato. Droga sull'asse Ufi Tamiscano, tre arresti da parte dei carabinieri di Ariano Irpino nella rete di spaccio. Molti degli acquirenti erano minorenni. Tre persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di giovani di Casalbor, Zungoli e Villanova del Battista, tutti destinatari di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini dei militari su un presunto giro di spaccio di hashish, marijuana e cocaina. L'indagine, avviata a marzo del 2016 ed è proseguita fino a dicembre scorso, era partita dopo il sequestro di cocaina ad uno degli indagati. Gli inquirenti hanno poi individuato attraverso intercettazioni telefoniche ed altre attività le piazze di spaccio nei vari comuni interessati. Gli uomini diretti dal capitano Andrea Marchese hanno inoltre appurato che lo scambio di sostanze stupefacenti avveniva nell'abitazione di attività commerciali delle persone finite al centro del provvedimento. Dalle indagini è anche emerso che molti degli acquirenti erano minorenni. Questa mattina è scattata l'operazione. Dopo una tappa presso la compagnia dell'arma di Ariano nel piano di zona, gli indagati sono stati riaccompagnati presso le proprie abitazioni ai domiciliari. L'operazione va ad aggiungersi ai numerosi risultati, anche recenti, sul fronte droga portati a termine dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Dopo la revoca e duello per la nomina del successore di Nicola Cantone al Ruggi di Salerno, De Luca ha indicato Mario Iervolino, ex sindaco di Ottaviano e attuale direttore sanitario del Rummo di Benevento. Ma il rettore Tommasetti a 8 Channel boccia la proposta. Sentiamo. Braccio di ferro per il successore di Nicola Cantone alla guida del Ruggi di Salerno. Dopo la revoca per la vicenda dei titoli nel curriculum, la regione sta sfogliando la margherita dei possibili sostituti. In pole position sembra esserci Mario Iervolino, già sindaco di Ottaviano e attuale direttore sanitario del Rummo di Benevento. Specializzato in medicina preventiva, non ha mai ricoperto un ruolo da direttore generale. E proprio per questo motivo il rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, boccia la proposta dell'Uchiana e spiega la complessità dell'incarico in una struttura importante come quella di Salerno richiede figure di comprovata esperienza. Il Ruggi e i plessi collegati, cinque ospedali, perché non è un ospedale singolo, ma una rete ospedaliera, è un grande patrimonio di questa provincia e di questa regione. Bisogna individuare un profilo, un alto profilo, che sia in grado di gestire una realtà complessa, anche perché ovviamente è una realtà che comunque viene da un travaglio, da un allontanamento forzato del direttore generale. In questo senso c'è bisogno di serenità per continuare a crescere. Il profilo deve essere di chi non può fare l'esperienza sul campo, ma deve essere un profilo già pronto, di uno che è già maturato, esperienze tipo apicali, come direttore generale, consolidate o direttore sanitario per più tempo. Quindi un profilo che in qualche modo si è da immettere immediatamente nel circuito, perché l'azienda ospedaliera e l'università non possono mai assistere, ma la cittadinanza ovviamente non può attendere. La proposta è venuta dalla regione, nessuno vuole scavalcare nessuno. Noi abbiamo un rispetto istituzionale che deve essere sempre quello che muove il nostro modo di comportare. Stadio Vigorito da Palazzo Mosti, arriva la conferma, sono arrivati i fondi delle Universia di 2019. L'assessore Pasquariello dice che serviranno per realizzare la bretella di collegamento tra il parcheggio della Curva Sud e via Santa Colomba. Fabio Tarallo. Una serie di interventi che interesseranno lo stadio Vigorito, tutti a carico del Comune di Benevento. E ciò che ha annunciato l'assessore Mario Pasquariello, nel corso di otto gol andato in onda ieri sera e condotto da Antonio Martone. Degli interventi possibili grazie al fondo che sarà concesso all'ente sanita per le universiadi del 2019. Ora, l'Agenzia regionale per le universiadi, che ha dato per il Vigorito un finanziamento di un milione e cento, ci ha dato come Comune il termine massimo di realizzazione dei lavori 31 dicembre 2018. Noi abbiamo deciso di utilizzare questi fondi per realizzare questa strada, una volta per tutte e soprattutto una strada degna di tal nome, non stretta come quella pedonale che siamo stati costretti a realizzare in pochissimo tempo, che consenta un deflusso dal settore distinti a curva, quindi con l'apertura di quei parcheggi, direttamente sulla strada vicino agli svincoli per la tangenziale. Lavori che hanno una scadenza prefissata, ma l'impegno del Comune sarà di anticipare la chiusura per cercare di rendere lo stadio Vigorito ancora più accessibile per i tifosi. Realizzeremo finalmente una tribuna stampa degna di questo nome. Cercheremo e ci riusciremo di posizionare i sediolini in tutto lo stadio, quindi completando i settori dove non ci sono attualmente i sediolini e credo che faremo anche degli interventi di miglioria per quanto riguarda l'impianto elettrico. Vorremmo realizzare delle postazioni per disabili in tutti i settori, non solo come c'è oggi nei distinti. Si è conclusa la centrale nucleare del Garigliano, nel Casertano, la demolizione del camino, alto 95 metri, avviata nel mese di agosto da parte della SOGIN, la società statale che si occupa di dismettere gli impianti nucleari in Italia. La struttura verrà ora sostituita da un nuovo camino in acciaio di 34 metri. Il camino è stato decontaminato attraverso un'operazione di scarifica realizzata con un robot di fabbricazione italiana. Le attività di smantellamento solo del camino sono costate circa 10 milioni di euro. L'intervento ha prodotto 7 metri cubi di materiale radioattivo che è stato stoccato in fusti sistemati nel deposito temporaneo del sito. Nella centrale del Garigliano sono stoccati al momento 6 mila metri cubi di rifiuti radioattivi che resteranno qui fino a che non sarà individuato e realizzato il deposito unico nazionale. Le attività di decomposizione si concluderanno nel 2028. Centro storico pedonalizzato. L'associazione Ossigeno lancia la sua proposta per il recupero del centro antico della città di Avellino. Valorizzare il centro storico, renderlo vivo e fruibile attraverso un ragionato piano di pedonalizzazione integrato con il sistema di mobilità. L'associazione Ossigeno ha presentato le sue idee per il futuro del centro storico di Avellino in un dibattito a cui ha portato il proprio contributo anche il direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo. Così com'è il cuore antico della città muore, pedonalizzazione, dogana e decoro le tre parole chiave per rilanciarlo spiega Luca Cipriano, promotore dell'iniziativa che è il frutto di un lavoro avviato dall'associazione lo scorso mese di giugno con incontri con residenti e commercianti della zona. Progetto che prevede due grandi interventi. Da una parte una pedonalizzazione abbastanza piccola, contenuta ma strategica che consenta al passeggio di Corso Vittorio Emanuele e di Piazza Libertà di prolungarsi lungo Via Nappi arrivare nella piazza della Dogana e di lì andare nei vicoli del centro storico e fin su a Piazza Duomo. E poi chiaramente il centro storico funziona se la Dogana rinasce, la Dogana rinasce con un grande attrattore noi proponiamo una proposta come noto di realizzare un teatro ridotto quindi di mettere in comunicazione il Carlo Gesualdo e la Dogana due teatri con un'unica regia con programmazioni differenti per un centro storico diverso. Dobbiamo creare degli spazi che possano essere vivibili nei quali gli abitanti del centro storico ma tutti gli avellinesi possano ritrovarsi e vivere la propria città, il cuore della propria città come normalmente dovrebbe essere per qualsiasi città il centro storico e il cuore della città. Per la settimana della cultura di impresa di Confindustria Museo Imprese ha promosso a Benevento un convegno per far luce sulle imprese storiche esempi di successo al centro di una ricerca dell'Università del Sannio. Maria Teresa De Lucia Tra il profumo delle spezie e la strana forma degli antichi alambicchi per distillare il famoso liquore a streghe Alberti appare chiara l'importanza dell'heritage marketing cioè la valorizzazione della storia, dell'eredità culturale di imprese che hanno saputo scrivere nel loro percorso la promozione della propria identità. Le imprese storiche sono un patrimonio nazionale da valorizzare ci prova la ricerca dell'Università del Sannio presentata in occasione della sedicesima edizione della settimana della cultura d'impresa promossa da Confindustria con Museo Imprese nello Spazio Strega. Lo studio che va al suo agli autori Maria Rosaria Napolitano, Angelo Riviezzo e Antonella Garofano il premio Best Paper Award al convegno annuale della società italiana Marketing confluirà in un libro di prossima pubblicazione e racconta i casi di successo di 20 imprese italiane. Le aziende storiche sono una grande realtà del nostro paese e è il nostro dovere valorizzare questo portato anche in termini di turismo. Questo lavoro è di particolare importanza perché per la prima volta che 20 grandi imprese longeve italiane hanno aperto la porta grazie a Museo Imprese e grazie al Cavaliere Pina Marelli della Liquirizia Marelli a un gruppo di ricercatori dell'Università del Sanio che ha avuto modo per più di un anno di intervistare, approfondire, ritrovare tutti gli oggetti della storia e riportare la storia nel futuro. Io penso che il nostro vero vantaggio sia l'autenticità. Noi possiamo raccontare una storia di 157 anni e penso che oggi questo sia un grande valore rispetto a qualcun altro che ovviamente non ha questo tipo di storia. Il Tg termina qui, vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.